La prima serata organizzata dallo SVEP per la festa del volontariato ha un tema che è quello della speranza vista come rischio. Perché dice il rischio della speranza secondo lei questo titolo? Ma per un cristiano la speranza è normale, è un rischio per un laico, è un rischio per un miscredente, è un rischio per un cristiano che non ha la speranza a meno che faccia un altro mestiere. Noi dobbiamo lavorare non perché dobbiamo vincere, perché il cristiano non può vincere, il cristiano se è cristiano è minoranza, sarà sempre minoranza, farà sempre fatica a far vivere le sue idee. Perché vedi fino a qualche tempo fa pensavo che fosse più facile fare che dire. Dice sai io faccio, che è molto importante, poi anche se taccio, amici ora che la finiamo di tacere, ora che il bene finisca di tacere, capito? E ora perché dobbiamo avere il coraggio di dire quello che facciamo, di dirlo in tutte le maniere, in bella maniera e brutta maniera. Perché c'è il tempo del silenzio e il tempo della parola. Questo è il tempo della parola. E bisogna avere il coraggio di dirlo, le cose che facciamo, perché non è possibile che ci sia così tanto bene al mondo, ci sia così tanto bene in Italia, e non lo sappia nessuno. Se noi mettessimo sulla bilancia il bene e il male che c'è in questo momento, io credo che la bilancia del bene è ancora più pesante di quella del male. Però se tu leggi i giornali, ma anche noi preti, anche noi cattolici, siamo tristi, facciamo gli sconfitti. Io non lo so, io sono uno di quelli che avrei, dico dovremmo avere il coraggio di sorridere anche in croce. Perché noi siamo i figli della Pasqua, non del Venerdì Santo. Allora sai, è la prima volta quando è morto Cristo, ma adesso che sappiamo come è morto e come è risorto, diciamo ben comunque, senti, pazienza tra i giorni, anche a me, o no? Senta, quando sono arrivata qua la prima cosa che ho visto è questo convegno che hanno fatto qua, sui nuovi cittadini, sulla Costituzione. E mi stavo chiedendo se effettivamente si può pensare che un giovane diventi adulto se non c'è spazio nella sua vita, nella sua crescita, nella sua formazione per l'attenzione all'altro, per l'attenzione a chi ha bisogno. Quindi perché spenda gratuitamente un po' del suo tempo? Mi domando se può diventare un uomo adulto che dà un contributo serio alla società senza passare per questa parte. Ma sai che noi abbiamo perso molto tempo nel creare strutture e adesso abbiamo creato un sacco di strutture, inventato di tutto e ce ne accorgiamo che le strutture non hanno relazioni, strutture fredde, strutture… Il Vangelo, il cristiano, è l'uomo delle relazioni, non delle strutture. Cristo ha battuto il Tempio, non ne ha fatto uno dei più grandi. Ha detto, ma ti devi tornare ad un tavolo. E allora noi, anche noi cristiani, ci lasciamo affascinare troppo dalle gran chiese, dagli oratori, dall'associazione, dalle cop, da tutta sta roba che poi, quando è ora, va bene? Te ne accorgi che ti guardi in faccia e dici, ma lei scusi chi è? E magari è vent'anni che lavora con te in una cooperativa e non sai chi è. E allora noi dobbiamo tornare a creare rapporti veri, autentici, va bene? A banalizzare, anche perché le strutture vuol dire norme, vuol dire regole, vuol dire burocrazia, vuol dire che hai sempre meno tempo e meno soldi per i poveri e comunque deve avere sempre un sacco di soldi per la burocrazia. Dobbiamo tornare a camminare. Cristo, se noi ci domandiamo, Cristo, le cose più belle le ha detto sulla strada? Le beatitudini, i discorsi con i suoi apostoli, va bene? E allora perché non torniamo sulla strada? Perché non torniamo, non ci liberiamo da tutta sta roba che è fatta di burocrazia? Incominciamo a guardarci in faccia e dire siamo figli dell'Esodo, siamo figli del Cristo della strada. Per cui le cose vanno male perché crediamo troppo nelle burocrazie e crediamo troppo nelle strutture. Quindi bisogna tornare a incontrare le persone, a intercettare forse anche i loro bisogni. A intercettare, ma a dirà dei bisogni. L'amicizia c'è in questo mondo, esiste l'amicizia in questo mondo, me lo volete spiegare? Me lo volete spiegare? Se esiste l'amicizia? Invece suoi dice arrivi lì, allora hai scritto al sindaco, hai fatto la fattura, la controfattura, la presenza, la mica presenza, hai firmato la presenza. E poi non sai neanche con chi parli, non sai anche che nome abbia quella poveretta che è lì che deve fare presenza. I cattolici devono liberarci dalle strutture, devono tornare ad essere autentici, torniamo alle catacombe, dove vuoi te? Il volontariato è succube della burocrazia del pubblico, siamo diventati la malaccoppia del pubblico e quindi non siamo né pubblico, siamo addirittura la malaccoppia. E stiamo perdendo la nostra originalità, il nostro DNA, la nostra freschezza. Il Narello prima mi diceva che secondo lui la nuova frontiera del volontariato è diventare uno stile di vita, cioè il volontariato non può più essere quella parentesi di tempo tra il lavoro e altre cose, un tempo racchiuso dove faccio delle cose per qualcuno ma deve diventare uno stile di vita. Questo è il nuovo modo di fare volontariato, lei concorda? Ma no, il problema non è, intanto il volontario deve vivere in alternativa alla società di consumi, perché il problema è vero, noi siamo minoranza e minoranza vuol dire che noi viviamo in modo profondamente diverso da come vivono gli altri, ma non perché la chiacchieriamo, perché noi ce ne freghiamo di avere tre telefonini, 44 macchine, non abbiamo mica bisogno di avere tre cessi in casa nostra. Va bene, quindi dobbiamo lavorare di giorno e magari fare il secondo lavoro e poi il terzo lavoro perché devo fare il terzo successo a casa mia, altrimenti non sono all'attesa del mio dirimpettaio, va bene, che c'è due gabinetti, uno per l'uomo e uno per le donne. Per cui il problema è lo stile, ma lo stile di vita, che siamo volontari o no, il cristiano ha uno stile di vita, è un segno di contraddizione, va bene. Quindi dopo, anche se fa l'impiegato e non va a Reggio Calabria a organizzare le cooperative, il suo stile di vita già è una proposta profonda e diversa, capito? Perché poi dallo stile di vita poi succede tutto quello che succede, ma se lo stile di vita dei cristiani oggi fosse quello che origina dal Vangelo, saremmo in questa merda, secondo te? O cacca perché sono nella televisione dei cattolici, dobbiamo parlare in italiano, saremmo in questa cacca noi qui se 10 milioni, su 10 milioni, su 60 di cristiani vivessero, vivessero le prime pagine del Vangelo, fino alle beatitudini, basterebbe, fino alle beatitudini, che è fino al sesto capitolo di Matteo, primi sei capitoli. Senta, ma come lo recuperiamo questo stile di vita? Non lo so, come lo recuperiamo, qui dobbiamo lanciare questo, lanciamo uno stile di vita, dentro lo stile di vita c'è tutto quello che parliamo di volontariato, ma è dentro uno stile di vita, non può essere una parentesi, capito? Per cui faccio il borghesone fino al sabato e poi la domenica faccio il volontario, faccio il borghesone per 11 mesi, poi vado in Africa. Queste sono le puttanate che fanno i cristiani, capito? Il quale dice, ma faccio 4 mesi, oppure faccio le adozioni, pensa la vergogna delle adozioni a distanza, noi abbiamo 200, 300, 1 milione, 2 milioni di adozioni a distanza e viviamo come viviamo, ma ti rendi conto? Ci calmiamo la coscienza, lei dice. Sì, 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 perché il Vangelo dice che il tuo vivere sia sì sì, no no, perché nessuno può servire due padroni, noi abbiamo inventato come si serve bene ai due padroni, capito? E siamo tranquilli perché poi sono quelli che vanno nei primi banchi della chiesa, quelli che vengono qua stasera, quanti sono che vivono, che hanno questo stile di vita? Me lo spieghi? Non voglio essere cattivo, anche a me, scusa, comincio anche da me. Però lei nonostante tutto questo quadro che mi fa, mi ha detto che la speranza ce l'ha. Certo, ma qui io urlo perché sono un uomo di speranza, non vuole mica urlare perché quando vado fuori di qua ho perso, non me ne frega niente, io va bene. Quando uno crede in quello che fa vuol dire che è un uomo di speranza, quando io dico che il bene, va bene, che c'è in Italia è più forte del male che c'è, però non riesce ad emergere. Perché? Perché i primi siamo noi, siamo come quelli che dicono, ma sai l'albero che cade, fa più rumore, la mela, marcia, tutte queste balle che vanno bene per i contadini, ma non per noi. Certo che per mio nonno, sai, quando cadevo un albero era come fosse caduto l'Ira di Dio, perché per lui un albero, se poi era di frutta, è chiaro che per mia nonna avere una mela marcia, e la tirava via subito perché altrimenti, ma questa è l'economia dell'agricoltore, non dell'educatore. L'educatore deve sapere che basta una mela buona per salvare 99 mela marcia, capito? L'educatore. E questo che lei tiene presente molto anche nella sua comunità, no? Certo, no, ma dobbiamo tenere presente questo, se no, cosa facciamo? Se ci spaventiamo, se abbiamo le logiche della vecchia pedagogia, che diceva fuggi il male, il compagno cattivo mi ha mandato via, eccetera, eccetera, che è una roba che a me fa ridere. Se io dobbiamo mandare via i compagni cattivi, devo chiudere tutte le 40 comunità che ho in Italia e le altre 20 che ho nel mondo, sono tutti compagni cattivi, li ho presi perché sono tutti compagni cattivi, capito? Però poi, voglio dire, ne vengono fuori bene? Non so se vengono fuori bene, io tento in qualche maniera di prenderli, adesso vediamo. Per un educatore non va a cercare le 99 pecore che non hanno bisogno, va a cercarsi quella lì, cosa ha fatto Cristo? Ha preso quella lì, poi, poi è bello perché sai io, poi mi godo chiosare il Vangelo, no? Immagino il pastore, va bene, che chiude le 100 pecore, a un certo punto va a dormire e poi una pecorina che riscappava la pipì durante la notte, vede che non c'era più la giacomina, la pecorella, il pastore dice, ehi, hai visto che è scappata un'altra volta la giacomina? Il pastore va lì, non mezzo addormentato, dice, devo andare stanche stanotte a cercarmi la giacomina. Il pastore ha lasciato alla pastora le 99 pecore, è andato a cercarci la giacomina e sapeva più o meno, ovvero, quando ha visto che c'era un lupo in giro, dice, qua c'è la giacomina. Dopo aver camminato, stanco, morto, si è preso la giacomina. Non è che l'ha menata, se l'ha messo sulle spalle, capito? Capite quello che vuol dire? Mettere la giacomina sulle spalle. Noi l'avremmo menata, riportata in galera, e poi mi guardo, con la pecorina dice adesso, prima o dopo mi mena, e per forza, prima o dopo mi mena, prima o dopo mi mena, o no? E invece sto pastore che la porta fino a casa, se la tiene lì, poi chiama tutte le 99 pecore alle 3 della mattina, compresa la pastora, mette la pecore lì, dice, adesso cosa facciamo? Chiudiamo il buco da dove è scappata o no? Lo chiudiamo il buco da dove è scappata o no? E allora immagino che sono ancora là che discutono, il 52% che dice chiudiamo, e il 49% che dice no, dobbiamo convincere la giacomina. Ma no, questa è l'educazione, capito? Questa è l'educazione, questa è la speranza, questo è quello che dobbiamo fare, convincendo un po' tutti, compresi noi, che non si chiude il buco, ma si convince la gente a cambiare la testa.